le poesie sono pochissime le poesie sono 41 basta i canti di leopardi ufficialmente ritenuti da leopardi sue poesie sono 41 all'inizio ci sono state le canzoni si chiamavano così poi una raccolta che comprendeva più componimenti si è chiamata versi solo più tardi nel 31 ha pubblicato un'edizione ulteriormente arricchita che si intitola canti quindi questo titolo di canti che per noi oggi è familiare e ci sembra ovvio banale non è affatto banale vuol dire che per la prima volta nel 31 a firenze con l'edizione piatti leopardi ha deciso di dare alle sue poesie il titolo che loro conviene come letteratura antiscritturale come letteratura cantata come letteratura della voce con diciamo l'intento ambizioso di far giungere al lettore la propria voce leopardi è uno che ha visto la poesia come un canto interiore in un certo senso ovviamente quando lui usa la parola i canti ha in ovviamente ovviamente petrarca e il canzoniere ma questo fatto di canzone di canto è molto molto a cuore nel poesia di leopardi ecco perché lui chiama le poesie i canti perché seguono un canto quasi naturale dello spirito umano invece di per esempio il sonnetto che prima che tu cominci a scrivere tu sai che devi avere quattordici versi una quartina e una quartina e una terzina e una terzina la forma è molto chiusa e leopardi è uno dei primi che è andato a una forma più sentita o cantata all'interno di questi canti leopardi inserisce una produzione che va dal 1817 al 1835 fin quando lui le può seguire sto parlando della seconda edizione curata dall'autore dei canti l'edizione starita di napoli poi ranieri aggiungerà i capolavori la ginestra e il tramonto della luna che ovviamente leopardi non ha fatto in tempo a pubblicare perché le ha scritte negli ultimi giorni della sua vita o negli ultimi mesi ma anche giorni con la mano di ranieri perché non poteva più usare la propria mano i propri occhi